Sabaudia, eccoci qua perché tu sei venuto una volta a presentare un Donbass in Silascia ah perfetto! Alberto ricorda il tuo nome? Claudio! Claudio perfetto per fare politica a sgaieta se non stai dentro una struttura è tosta eh si è tosta buongiorno che hai? è una foto da Pa questa è un pregianto da Pa andiamo noi ah c'è lui cagnoti perché sennò ti mette 300 bandiere buongiorno accendi solo grande